ben a tutti ragazzi sono Sergio Adria Advertonati sul mio canale e oggi è il momento della missione numero 12 di Call of Duty Advanced Warfare siamo post crollo di Golden Gate abbiamo salvato quel poliziotto lì proprio all'extremis prima che la missione cominci vi chiedo subito per favore di lasciare un like e di iscrivervi oggi non connetto per me è molto importante trovate il tasto qua in basso qua Cormac il nostro generale dietro la collina movimenti in TRP 3 e 5 modifiche alle navi cargo confermate attaccano la flotta sarà un massacro calma tenente quante risorse ancora attive ci restano in zona scansione in corsa collegamento squadre Sentinel check radio Sentinel 2-2 check Sentinel 2-1 a porta è chiaro adesso che cazzo dovremmo fare? ricevuto prendete posizione sulla porta aerei io sto arrivando armada, armada ed ecco qua che cazzo ATLAS punta agli armamenti della porta aerei piazziamo del jammer sui cannoni per dare tempo ai tecnici abbiamo troppe nemiche in tutta la nave proveranno a occupare la francia muoviamoci questa ce la pagheranno cara ad ATLAS di occupare la francia ragazzi qui non c'è da prendere iniziative da stare tutti insieme per io sono 9.000 noi siamo 4 sempre tenete doc per il caso non fosse morto sai com'è? ma che puoi? a presto a presto per gata il microonde sono fatali ragazzi sono fatali tu te ne vai un altro mondo non ti appartiene ecco cos'è che rompo accanto il pseudodroni andiamo a non fare pillate ora piazziamo finalmente sto gemmer c'è morto un alleato già ce n'abbiamo fatti capito non vale non ho premuto r2 non so quale santo mi ha detto di premere r3 ok dobbiamo piano piano avanzare tutti insieme sono anch'io qua sopra va c'è piazza pulita e piazzalo posso scudere la prima amica ah ora ci si diverte quindi ok ok cariciamo nooo stai ti chiediamo ed ecco fatto questo dovrebbero allentarli cannoni sicuri andiamo in plancia stiamo tutti su stiamo tutti su perfetto qui c'è da rompersi il collo ecco il visore notturno ci servirà più tardi un bel rifornimento non fa mai male raggiungeremo la plancia non c'è corretto non c'è corretto il m in una situazione di ammazzare qualcuno senza visione notturna fantastico ma qui si chiappa dei colpi quindi è meglio uscire. E ce ne vuole per ammazzarne uno, ragazzi. C'è da andare qua. Il nemico controlla la contraerea laser. E beh. Giù. Dobbiamo arrivare dall'altra parte dell'hangat. Dobbiamo camminare qua sotto. Qui ci sono molti meno nemici. Poi ci sarà un'irruzione che vedrete. E allora è meglio tornare di là. ... ... ... Monservato in volo. Cosa va di suddiciamo? E... ... Ok, leggeriamoci qui, tutti con me, vero? Ah, perché voi l'avete tagliato ma sono già morto, capito? Quindi non vorrei che ti petri i miei errori per fare un video più lungo, anche se ho comunque l'ho beccato tagliato, 4, ce ne vuole, ovvero? Quattro, ce ne vuole, ovvero, ma se non me se ti fate voi, che tu sei con me? Girare i container prima di guardare, senza guardare, potrebbe essere un rischio, perché anche se questi qua ti pioggiano il pugno, ovvero l'R3, famoso, come è letale per me, non so, come è letale per loro, è letale pure per me. Uh, l'ho rischiata grossissima qui, eh, però voglio una. Voglio una signora arma. Ok, lo spiazzo è libero. Siamo quasi in plancia. Siamo quasi in plancia. Siamo quasi in plancia. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoli qua le scale. Mi vado prima io. Sono un livello di arrivamento tecnico, quindi ... Questo che è un'arma che questa fa piuttosto schifo, eh. devo trovare un'altra arma no 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 facciamo perdere quell'arma lì adesso andate aspettando lui su, attenti qua non ci sa mai ok qua c'è da affondare le navi vedrete la nave cargo is out lo faccio fuori anche te affondare che inferno questo cambierà ogni cosa e ora che succede? adesso Iron s'ha ammazzato migliaia di innocenti sul suono americano adesso gli diamo la caccia e lo ammazziamo noi ed ecco qua si conclude qui la missione numero lo posso fare 12 noi abbiamo potenziamenti vi ringrazio c'è tutto lei che iscrivetevi come indicato qua sotto per è molto importante vi ringrazio per la visione e ci vediamo la prossima missione che adesso si arriva proprio nel momento clou della storia ecco e vi saluto qua non vi spoilerò nulla e vi lascio ciao a tutti grazie ragazzi grazie a se il giardio